ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale come avrete sicuramente letto dal titolo nel video di oggi andremo a provare una palette di un indie brand australiano ovvero la minatrix cosmetics questa in particolare è la silent night e come potete immaginare sia dalla grafica sia dal nome è la palette natalizia io purtroppo per una serie di eventi sono riuscita a registrarvi il video solo ora però se non sbaglio questa palette dovrebbe essere ancora disponibile dal loro sito questa è la palette al suo interno che come potete vedere sembra super bella cioè in realtà non rende neanche tanto da lì però c'è questo che è azzurro lilla duochrome questo anche duochrome dorato un po' verde io non vedo l'ora di provare questa palette non ho ancora mai provata è un brand che mi ispira davvero tantissimo lo seguo in realtà già da un po' di tempo e prima di questa palette ne avevo puntate anche altre che mi auguro in realtà che tornino disponibili perché vista dal vivo è la vita raga questa palette se dovesse piacermi potrebbe essere un problema vi vado ora a swatchare gli shimmer duochrome treochrome insomma della palette iniziamo da fairy lights ovvero questo super ice wow cioè raga è luce pura è meraviglioso dal vivo ha anche un po' si forse si vede anche da lì in realtà ha anche un sottotono doratino vado ora con tinsel wow molto bello anche questo questo come potete vedere a differenza di fairy lights è molto meno brillantinato è proprio shimmer però è super pieno cioè raga con uno swatch ci colorate casa io tra l'altro ho fatto lo swatch col mignolo quindi vengono anche un po' quindi insomma potete ben capire quanto sia bello questo colore passiamo ora a jingle bells wow anche questo luce pura bellissimo ed infine bubbles è il mio preferito della palette ok è meraviglioso cioè è lilla azzurro visto da qua è verde con le luci della ring light da lì non si percepisce che è super verde da lì esce più la parte lilla azzurra da qua più la parte verde lo amo tantissimo ho applicato un primer occhi e mi sono avvicinata in modo da farvi vedere meglio il look con un pennello a punta vado ad applicare mistletoe come primo colore sulla parte più interna allora io l'ho appena prelevato così e mi sembra iper pigmentato l'ho applicato un pochino tamponando adesso vado a sfumare il colore direi che c'è tutto vado ora con un altro pennellino sempre appunto ad applicare stocking ovvero questo bordo non lo so mi sfira tantissimo comunque questo verde si è sfumato molto bene adesso andiamo a vedere anche come si sfuma insieme a questo colore che è stupendo prendere il pennello che ho utilizzato prima per sfumare mistletoe e vado a sfumare anche stocking qui raga potete anche notarlo mi ha fatto un pochino macchia non capisco bene in realtà il motivo come tipo se il pennello fosse stato un filino bagnato sono andata a prendere la mia fidatissima jumbo eye pencil di NYX ovviamente sempre nella colorazione milk per andare a creare una cut crease vado con un classico pennellino a spugnetta a prelevare bubbles che raga è super cremoso wow raga è meraviglioso cioè non rende l'idea non so quanto si percepisca da lì ma è qualcosa di fuori di testa stupendo vado con un pennellino più piatto e provo ad applicarlo anche con questo perché secondo me è infatti vi posso assicurare che non sono tante le texture che si riescono ad applicare così bene anche con un pennello comunque mi è appena venuta l'illuminazione e penso che appunto applicherò bubbles fino a più o meno qua prendo un altro pennellino e vado con slate ovvero il blu nella parte più interna vediamo se mi è venuta una buona idea o faccio una cavolata più che altro perché così vi faccio vedere un po' tutti quanti i colori lo picchietto essendo che sotto comunque c'è bubbles non so se da lì rende sì un po' sì vedete che comunque si vedono i glitter ora lo vado a sfumare vado ora nella parte più interna e vado ad applicare fairy lights bomba anche questo fairy lights tira un sacco fuori la parte più azzurrina che swatchata non avevo assolutamente visto come potete vedere slate essendo che l'ho applicato picchiettandolo ha spolverato un pochino siccome questa palette ve la voglio far vedere proprio al meglio andremo sull'altro occhio a ricreare un altro look raga utilizzando ovviamente la parte che non abbiamo utilizzato sto cercando un pennello pulito ma li devo assolutamente lavare vado a prendere questo pennellino e vado ad applicare gingerbread non so se di quando era magari a ricreare un look più soft non lo so cioè non penso perché mi conoscete comunque c'è raga questo colore lo applicate ed è sfumato cioè si sfuma da solo e non lo so è stupendo non lo so ma io quando trovo questi colori che si sfumano così tanto bene mi viene voglia di applicare l'infinito non io raga che ho appena scoperto di avere un pennello che ha perso le setole e non so non mi viene dove siano le setole sa che pennello è? no vabbè raga ci sono rimasta malissimo vado ad applicare tinsel questo copper nella parte più esterna io vi faccio sempre vedere che faccio l'altro occhio perché di qua non saprei neanche cioè faccio fatica come vi faccio a farvi vedere di qua cosa faccio mentre ora vado nella parte più interna con jingle bells che è anche questo meraviglioso anche jingle bells è stupendo pura luce niente da dire meraviglia bellissimo davvero tinsel alla fine cioè come potete vedere anche applicato non è assolutamente luminoso quanto può essere appunto jingle bells o fair light o bubbles per dire tutt'altra cosa è uno shimmer un po' più classico diciamo che però è super mega burroso super mega scremette super intenso eccomi tornata con il look completo alla fine ho messo da questa parte l'eyeliner e le ciglia finte le ho messe uguali per entrambi i look penso che ci siano meglio forse di qui mi sarebbero piaciute anche quelle super lunghe però appunto almeno le ciglia le volevo mettere uguali come rossetto applicato cinnamon board delle melted matte di too faced penso che questo colore stia bene con entrambi i look mi fa un sacco strano vedermi con due occhi totalmente differenti però appunto ci tenevo tantissimo a farvi vedere tutta quanta la palette visto che comunque si trattava di otto cialde era una cosa molto fattibile e quindi nulla eccoci qui con le considerazioni finali vi consiglio questa palette allora raga io sì ve la consiglio se la trovate appunto come vi stavo dicendo poco fa glamina 3x è un indie brand e in quanto tale ha i prodotti con stock limitato e quindi quando un prodotto finisce è difficile che comunque venga subito riassortito sempre se viene di nuovo riassortito in questo caso so che appunto c'era stato un riassortimento spero che ci sia ancora qualcosa disponibile hanno anche cialde singole calcolate comunque che si tratta di un brand australiano c'è dogana come vi stavo dicendo prima è un indie brand quindi è rivenduto solo lì però credo che ne valga veramente la pena i matt sono super buro cioè avete visto gingerbread lo mettete e si sfuma anche questi comunque sono colori già un po' più complessini so che di solito le colorazioni calde e nude sono un po' più facili da fare però anche questo verde bellissimo si è sfumato tranquillamente ha fatto un po' di macchette in realtà invece il bordeaux non lo so se però è stato un mio problema secondo me sì perché vedendo comunque gli altri colori non ho assolutamente avuto problema con nessuno quindi penso di aver sbagliato qualcosa io non lo so magari c'avevo ancora un po' di primer non propriamente asciutto può essere quindi sì raga io vi consiglio assolutamente questo brand e nulla fatemi sapere che cosa ne pensate di questi look con il look che ho fatto oggi penso di preferire questo lato come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù in infobox perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine di questo video io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con Glamlite per Icy ciao